La questione delle elezioni amministrative della tornata di maggio non è ancora ufficialmente stata affrontata, l'ipotesi di un rinvio però sembra sempre più probabile. Infatti nel prossimo maggio dovrebbero essere richiamati alle urne milioni di cittadini italiani per i rinnovi di diversi consigli regionali e comunali. In calendario ci sono anche il Consiglio regionale delle Marche con l'elezione del governatore e quelle per le amministrative dei comuni di Macerata, Fermo e Senigallia. A Fermo la riconferma del sindaco Calcinaro prima dell'emergenza coronavirus appariva piuttosto realistica, ma poi sono cambiati alcuni scenari. La preponderanza di questa emergenza sanitaria ha fatto sì che l'amministrazione sia concentrata su quella che è la reale necessità della città di Fermo, come ci riconferma il sindaco Calcinaro in risposta alle polemiche degli ultimi giorni. Ma io devo dire una cosa, che oggi il mio pensiero è solamente quello di traghettare la città oltre questa emergenza, quindi l'emergenza di adesso è quella che ci sarà nei mesi estivi, nel miglior modo possibile. Al momento veramente quello delle elezioni, quando ci saranno in autunno, ottobre, dicembre, novembre, non lo so, non è realmente un pensiero. Magari lo è per altri che hanno trovato modo, anche secondo me con scarso gusto, di fare delle uscite propagandistiche in questo momento. Ma insomma, a me onestamente questo momento non mi interessa, mi interessa la tenuta della città, la tenuta dei cittadini, la tenuta di tante anche piccole aziende che prima c'erano e adesso hanno la serranda giusta. Io penso a questo, altri pensassero alla politica che tanto li fa ardere.